Qualche mal di pancia c'è, ma la stragrande maggioranza dei dirigenti del Partito Democratico ha condiviso la proposta avanzata da Danilo Leva di aprire all'Udc. Il Molise non può restare immune da quanto accade a livello nazionale e rispetto ad una fase straordinaria come quella che stiamo attraversando è ovvio che occorrono anche qui delle risposte straordinarie. Noi ci occupiamo della riorganizzazione del campo dei riformisti e dei progressisti che rappresentano un centro-sinistra però non settario e non divorato da un istinto minoritario e che quindi apre ad una prospettiva di dialogo e di incontro con le forze moderate anche quelle dell'Udc. Una coalizione allargata che però nel Molise deve fare i conti con le divergenze nazionali tra Pierluigi Bersani e Antonio Di Pietro. Ma tra PD e DV a livello nazionale c'è stato un sulco, è stato scavato dal comportamento dell'Italia dei Valori, dall'attacco nei confronti delle istituzioni, in particolar modo del Presidente della Repubblica. Io penso che noi non possiamo far tornare questo Paese in una stagione che abbiamo accantonato, quella dell'Unione, che più che un'alleanza era anche un metodo di governo abbastanza pasticciato. L'Unione ha fallito entrambe le volte che ha vinto le elezioni sul piano proprio della stabilità politica. I cittadini ci punirebbero, dobbiamo avere la forza, dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo avere la determinazione di capire che bisogna costruire un'alleanza nuova, riformisti, progressisti che fanno un patto di legislatura con l'Udc. Anche sulle primarie il PD, a differenza dell'Italia dei Valori, tira dritto e preannuncia che si faranno, sia per scegliere i candidati al Parlamento, sia per l'aspirante Presidente alla Regione. Le primarie possono essere uno strumento che unisce, e allora che primarie siano laddove c'è bisogno di fare un lavoro su una maggiore coesione appunto del campo riformista. Ecco perché non le abbiamo escluse, non ci sono rendite di posizione da tutelare. Secondo l'Eva però, l'alleanza con l'Italia dei Valori del Molise non è in discussione.